Il derby di Berlino è un tripudio per l'ERTA, un ion umiliato con un secco 4-0 è stata una bella partita soprattutto nel secondo tempo, diciamo che nel secondo tempo è stata più avvincente anche se meno equilibrata nel primo tempo abbiamo visto le due squadre studiarsi e non abbiamo visto nessuna delle due prevalere sull'altra quindi c'è stata una situazione di stallo semplicemente ci sono state occasioni da una parte e dall'altra ma generalmente il pallino del gioco lo ha tenuto in mano l'ERTA che tra l'altro era anche la squadra padrona di casa l'ERTA sfiora il gol con un colpo di tacco molto bello, ravvicinato ma debole di Cugna che appunto ragazzi stava per finire il tacco anche se il titolo era abbastanza debole però sarebbe stato un bellissimo gol e anche Visevic ci prova sempre per l'ERTA ma non riesce ad andare in rete almeno nella prima frazione di gara mentre per l'Union l'occasione più golta è quella che capita sul mancino di Andrik che tira un'ottima punizione dalla sinistra col sinistro ma il pallone termina sull'esterno della rete sicuramente però tutti i tifosi, tutti i sostenitori dell'ERTA che hanno guardato la partita da casa per ovvi motivi ovviamente oggi come è giusto che sia allo stadio comunque in linea con le misure che sono state adottate per contenere il contagio era vuoto ovviamente, si è giocato a porte chiuse quindi tutti quelli che hanno guardato la partita da casa hanno avuto un brivido lungo la schiena perché Andrik comunque è uno specialista, uno che tira molto bene è uno che ha un ottimo piede e infatti l'aveva messa veramente ad un soffio dall'incrocio dei pali fortunatamente però per loro niente si è concretizzato in gol all'inizio del secondo tempo va in rete Ibisevic, bellissimo gol da attaccante velo comunque per uno come lui che ha girato tutto il mondo ha giocato dappertutto, ha giocato in America con il Chicago ha giocato anche in Francia con il Paris Saint-Germain anche se in un Paris Saint-Germain è completamente diverso da quello di oggi era prima dell'avvento della nuova gestione, del nuovo presidente però comunque diciamo che ha girato un po' tutto il mondo giocando a calcio e ha girato anche una buona parte di Germania io mi ricordo le sue ottime prestazioni anche con l'Offenheim comunque fa un bellissimo gol perché taglia l'area di rigore va verso il primo palo e poi con l'incornata, con la frustata di testa riesce a metterla alle spalle del portiere avversario poi c'è anche il secondo gol di Luque Bacchio che è praticamente un gol troppo facile per lui ragazzi perché l'Union lascia un buco mega galattico in difesa c'è l'imbucata centrale per Luque Bacchio che poi salta il portiere, si la sposta sul destro e poi calcia verso la porta che era rimasta ormai sguarnita questo è stato un 1-2 micidiale perché i gol sono stati siglati, sono stati segnati più o meno ad un minuto di distanza l'uno dall'altro quindi è stato un 1-2 micidiale che ha steso completamente l'Union e che gli ha tagliato le gambe poi c'è anche spazio per il gol di Cugna una rasogliata micidiale anche questa sul suggerimento di Bisevic dopo un po' di dialoghi in mezzo all'area dopo anche un bellissimo sombrero e poi ragazzi c'è addirittura il gol il gol del 4-0 affidato a Bogliatà che comunque fa un bel gol di testa si inserisce da calcio d'angolo ragazzi fa un bel gol niente da dire sigla il gol del 4-0 è vero che sancisce ufficialmente la chiusura di un match bello perché comunque è sempre bello vedere due club un derby comunque due club della stessa città e qui ci sono state in passato anche delle divisioni politiche storiche Berlino Est contro Berlino Ovest quindi una contrapposizione sentita dai rivosi un po' meno dei giocatori che ovviamente non sono tutti berlinesi però è un derby che porta dietro di sé anche una storia molto interessante quindi secondo me è sempre una bellissima partita oggi ha vinto la squadra più forte e anche se anche se ragazzi l'ERTA quest'anno è in una profonda crisi ha cambiato tantissimi allenatori penso almeno 5 considerando nell'ultimo anno negli ultimi 12 mesi penso abbia cambiato almeno 5 allenatori oggi però la badia si può godere la sua grande vittoria perché questa è una sua grande vittoria il video che c'è qui vi ricordo di poter lasciare mi piace e iscrivervi al canale